ariete mercurio in aspetto di opposizione rende più faticosa la comunicazione avete qualche indecisione e alcune idee sono confuse mentre le relazioni con gli altri non brillano puntate sulla vivacità delle vostre energie toro quadro astrale difficoltoso per le questioni amorose che adesso vivono una verifica una lontananza voluta o imposta ma sono possibili anche colpi di fulmine inattesi la voglia di rompere gli schemi abituali gemelli arrivano buone novità ad alietarvi riprendete il tono effervescente e l'impulso al movimento alla vita sociale agli interessi di stampo intellettuale oggi la luna distorta però vi inclina al nervosismo cancro meglio porre attenzione agli accordi alle trattative in questo periodo qualcosa di stonato potrebbe sfuggirvi sentimentalmente siete in un momento di euforia ed espansione di romanticismo e conferme leone periodo turbolento nella sfera amorosa venere giove dissonanti possono fare emergere questioni legali di sapori affettivi in un momento in cui siete già fortemente sollecitati da marte opposto calma e moderazione vergine la luna oggi si pone in aspetto di opposizione e colma la giornata di sensazioni nostalgiche forse ricordi e ripensamenti o qualche piccola delusione ma la forza del vostro cielo rimane grande e inalterata bilancia mercurio è in transito nel segno e amplia il giro delle conoscenze intensifica la voglia di confronti e facilita eventuali accordi commerciali di lavoro riuscirete a sbloccare una situazione che vi sta a cuore scorpione giornata addolcita dalla luna armonica e da venere in transito nel segno che vi rendono capaci di romanticismo e ricchi di fascino seduttori in grande stile lasciatevi andare all'amore sagittario se avete trascorso un momento di apatia e stanchezza adesso riemerge tutta la vostra impetuosa grinta lo spirito indomito e goliardico il desiderio di convivialità e qualche esperienza un po' avventurosa che non vi annoi capricorno siete in una fase di preparazione e lavoro per il raggiungimento di obiettivi soddisfacenti legati alla vostra attuale spinta ambiziosa bene le faccende di cuore che vi aprono ai sentimenti oggi dolce anche la luna acquario buone notizie per voi che ricevete i favori di mercurio e del sole in angolazione armonica corrieri di un buon tono mentale e fisico pronti a sorreggere le tempeste di marte nel segno che vi rende impetuosi pesci oggi la luna è di passaggio nel segno e scivola su nettuno modellando atmosfere suggestive quasi irreali soprattutto con chi amate mentre in generale vivete una giornata di creatività immersi nelle vostre fantasie buone stelle este in generale com'è la